Buongiorno ragazzi, a me il compito di un breve saluto, vi porto i saluti di Confindustria Ceramica e di tutti gli espositori di Cersaie che sono qui in bella mostra con gli stand per quel che riguarda sia il settore dell'aereo do bagno che la ceramica e sapete che Cersaie per questi due settori è la massima manifestazione mondiale, quindi per noi è veramente un appuntamento importante, il più importante per il nostro mondo. Oggi siamo i primi perché è con questa mostra Ceramic Futures che inauguriamo il programma Costruire, Abitare e Pensare, quindi ci hanno dato il privilegio di essere i primi e per questa importante mostra. La ceramica negli ultimi anni ha nuove forme, nuovi contenuti ed è per questo che noi abbiamo voluto fortemente questo progetto che desse lo spazio ai giovani di immaginare gli sviluppi futuri della ceramica e lo abbiamo fatto mettendo insieme quattro scuole di design provenienti da la cima e il fondo dell'Europa, da Glasgow fino alla Sicilia e quindi anche un progetto internazionale e questo è un altro plus di questa mostra. Peraltro proprio in questi giorni di inaugurazione della fiera abbiamo fatto convegni, il tema principale anche che tutti i giornalisti insomma volevano sapere quali sono le prospettive, quali sono gli scenari, c'è la crisi, non c'è la crisi. Bene ecco, questa è una risposta perché sicuramente passando attraverso la mostra ci sono delle idee, delle intuizioni che possono effettivamente aiutarci se colate correttamente a dare anche noi nuove forme, nuovi contenuti ai nostri prodotti in azienda. Perciò io lascio poi spazio ai relatori che vedo già schierati dietro di me, vi auguro buona conferenza, buona cersaie e la parola a Matteo Poli. Buongiorno, grazie mille per l'invito dell'ospitalità, non so se devo parlare. Ok, io sono qui per moderare questo incontro, lavoro per la rivista Abitare e abbiamo cercato di seguire diciamo lo sviluppo di questo lungo workshop che è durato da maggio, direi quando ci siamo visti per un primo tour nelle zone di produzione delle ceramiche, diciamo del prodotto che poi gli studenti hanno utilizzato nel corso di questi mesi nel loro lavoro. Quello che posso dire come impatto anche personale del progetto è che per tutti questi mesi c'è stato questo continuo flusso di informazioni e aggiornamenti su quello che gli studenti stavano facendo, quindi un continuo lampeggio di momenti creativi sparsi nelle quattro scuole coinvolte. Come sapete uno degli aspetti innovativi e attuali di questo workshop durato quasi quattro mesi e che si è svolto principalmente attraverso una piattaforma online, quindi un'interfaccia che ha permesso ai docenti e agli studenti di essere costantemente in contatto ma soprattutto visibili al mondo esterno, quindi al contrario di quello che a volte succede con le scuole che sono chiuse dentro le loro sedie e non hanno un affaccio sul mondo esterno. Quindi sicuramente questo è stato un esperimento molto interessante anche dal punto di vista di chi fa il lavoro di giornalista, quindi la costante informazione. Io direi che non so se faccio girare il microfono oppure se Aurora, non so cosa... No niente, io dicevo che forse quello che potremmo fare in questo momento è di presentare i lavori degli studenti, cioè di mostrare quelli che sono i lavori che sono stati selezionati con il meccanismo dei social network e poi aprire una discussione forse sui lavori stessi più che discutere in modo astratto del lavoro. Quindi le scuole che hanno partecipato sono la Glasgow School of Art, il Politecnico di Milano, l'Accademia Abadir e lo IED di Roma e questi studenti che hanno postato nel corso di questi mezzi online avevano quattro categorie dentro le quali i loro progetti, i loro contributi venivano classificati, che erano most sociable, most productive, most appreciated e most charismatic. Ognuna di queste quattro categorie portava poi a un risultato diverso o di partecipazione alla mostra che c'è dall'altra parte della scala o a una visita alle aziende della zona con la possibilità di incontrare la produzione della ceramica. Per la scuola di Glasgow, most sociable and productive è risultata Kathleen De Bias, con un progetto che si chiama Our Nature, che... Ah, col Politecnico, ok. Ok, scusate, cominciamo col Politecnico. Sono due studentesse che hanno vinto, diciamo, la partecipazione alla mostra e le visite, sono Giulia Besplemenova e Chiara Chicianni, Giulia con Ceramic Beach 2.0, che è stata selezionata per essere la più produttiva e apprezzata all'interno della, diciamo, della rete dei partecipanti al workshop e del pubblico online. E Anger vs Ceramic, di Chiara Chicianni, per Most Sociable, che invece è appunto chi ha partecipato in modo più attivo alla promozione dei propri progetti online. Lascierei a loro la parola, se ci sono. Buongiorno, sono Giulia Besplemenova. Il mio progetto è stato realizzato nella categoria nuova natura, quindi ho studiato il rapporto fra la ceramica e il nuovo ambiente, la nuova natura e sono stata ispirata dal panorama manifatturiero. Ho esplorato anche l'ambito del riciclo della ceramica e ho trovato delle ottime opzioni perché quando si ricicla la ceramica è possibile apprezzare tutti i valori della ceramica stessa. Quindi è possibile immagazzinare la storia della cultura della ceramica. Quindi vi è un progetto anche di recupero dei valori. Quindi ho deciso di realizzare un progetto che valorizzasse le caratteristiche della ceramica e una volta riciclata volevo che la ceramica avesse un rapporto con la natura. È possibile anche attraverso il mio progetto vedere il rapporto con il suono, con i colori e come vedete questi colori richiamano i coralli di una spiaggia. Quindi il cliente immaginario può chiedere una spiaggia ad esempio di un certo colore, ma l'aspetto visivo ha anche un rapporto poi con il tatto, quindi si può decidere che tipo di paesaggio realizzare e anche il processo produttivo è caratterizzato dall'interazione con l'acqua. Quindi abbiamo sfruttato i processi naturali dell'acqua, del mare ad esempio, però accelerandoli. In questo caso abbiamo instaurato un rapporto con il mare, con un tipo di paesaggio in particolare, ma è possibile instaurare un rapporto con qualsiasi tipo di paesaggio naturale. Grazie. Io sono Chiara Cicchiani e il mio progetto è Hunger vs Ceramic. Io sono nella categoria New Nature, ma non ho visto la natura come alberi, piante o boschi, ma ho pensato piuttosto alla natura dell'oggetto in relazione con la natura umana. Quindi diciamo che la mia analisi è partita da vedere come l'uomo si relaziona con gli oggetti, con la ceramica e sono passata poi a analizzare lo stereotipo di una persona arrabbiata che rompe un piatto tirandolo per terra. Quindi io volevo che l'oggetto seguisse il mood della persona, sia rompendosi ma poi riuscendo ad essere riutilizzabile nonostante sia stato comunque buttato per terra. Quindi la mia idea è stata quella di ricoprire un piatto in silicone e in questo modo ricoprendolo in silicone se una persona è a un mood costante e quindi è calmo il piatto rimane intatto, ma quando questa persona rompe il piatto perché è arrabbiata il piatto all'interno si rompe ma rimane comunque un piatto integro all'esterno. Questo perché? Perché continua comunque a essere utilizzabile ma rimane dentro la storia di questo mood, questo feeling quando la persona si relaziona con l'oggetto. Ho fatto vari esperimenti tra cui rompere dei piatti prima normali poi ricoperti di silicone e diciamo che ho portato a questo oggetto che spero sia uguale il feeling che le persone hanno quindi semplicemente questo è il mio progetto. Grazie mille. Tutti i progetti oltre ad essere visibili poi sono raccolti in questa pubblicazione che credo sia in distribuzione fuori per cui c'è una sorta di memoria anche di quello che avete raccontato. La seconda scuola partecipante è Glasgow School of Art, Kathleen De Bias con il progetto Our Nature e Zoe Prosser con Synergetic Tiling. Non so se egli vuoi dire qualcosa o facciamo parlare loro. Prego. Sì sì sì. Salve a tutti sono Kathleen della School of Glasgow. Il mio tema è stato la natura. Ho fatto quindi un esperimento che ha esplorato il rapporto con la nuova natura. Per me la natura si è adattata a un panorama governato dall'uomo. Quindi ho fatto tanti esperimenti. Questo è il mio risultato finale. Questo è stato uno dei miei risultati finali. Non hanno un fondo. Quindi ho raccolto vari oggetti sul marciapiede e ho cercato di studiare l'interazione con l'ambiente circostante. Ho realizzato anche delle piastrelle che esplorano il rapporto con lo stampo, con la forma e come cambia. e questo è stato il mio ultimo esperimento che ho avuto a che fare con i vasi. I vasi hanno studiato il ciclo della vita e ho studiato il ciclo della vita tenendo dei fiori nei vasi. e ho studiato sia quando i fiori erano freschi vivi, sia quando non erano più freschi e quindi erano morti diciamo. Ciao a tutti, sono Zoe dalla Glasgow School of Art. Ho realizzato il mio progetto sulle piastrelle sinergetiche. Il tema era quello del corpo umano. Quindi la ceramica svolgeva già un ruolo fondamentale nel settore medico. Ho immaginato che la ceramica potesse essere utilizzata per le protesi e quindi ho deciso di studiare come la ceramica poteva essere utilizzata per sostituire articolazioni o ossa nel corpo umano e mi sono basata su un'ampia gamma di forme che sono state poi modellate. Questa ad esempio è una forma cilindrica e questa forma è stata sviluppata poi assemblando anche diversi modelli per poter essere adattata a un corpo umano. Quindi si tratta di un pezzo quasi architettonico che è stato modellato e credo che questo sia un modo molto interessante anche per studiare come la ceramica possa adottare diverse forme. grazie. Ci sono altri due studenti che sono venuti da Glasgow che non sono stati selezionati per essere come vincitori però ovviamente sono qui quindi magari è opportuno farli anche presentare visto che hanno fatto un viaggio abbastanza lungo per essere qui a Bologna con noi. Lui è Steve Payne e fa parte anche lui del corso di product design a Glasgow School of Art. Grazie. Grazie. Sono Steve e vengo dalla Glasgow School of Art. Anche ho lavorato sul tema del corpo umano quindi ho utilizzato il corpo umano come una raccolta di forme, di tessuti. Quindi il mio approccio iniziale è stato proprio quello di fare uno zoom sui dettagli, sui tessuti dell'uomo come la pelle, la lingua o l'occhio. Dopodiché ho realizzato uno stampo come se fossero delle fotografie digitali. Ho realizzato poi un modello in 3D per estrapolare una serie di tessuti che potessero essere applicati alla ceramica. Quindi ho esplorato più il processo anziché realizzare dei risultati. Le applicazioni come vedete sono state varie. Grazie. And now Jamie Fleming, uno studente del corso di product design a Glasgow School of Art. He's also from the Glasgow School of Art. Vengo dalla Glasgow School of Art. Adesso vi mostrerò il mio progetto. Il mio progetto si è concentrato sull'acustica, sull'acustica dei vari luoghi e ho pensato che queste textures fossero utili a un certo punto del mio progetto. Ho integrato le varie textures per studiare le dinamiche future del prodotto ceramico. Quindi ho lavorato non solo sull'estetica, bensì anche sulla funzionalità. questi sono alcuni dei risultati che ho raggiunto. Queste sono delle protesi acustiche, come potete vedere. Ho lavorato quindi sull'estetica di oggetti tradizionali che potessero avere un'applicazione diversa da quella usuale. Le immagini degli oggetti finali non erano qui perché ovviamente non sapeva che doveva presentare le cose che ha fatto. Quindi se siete curiosi sono sui tavoli qui fuori. In effetti potete vedere gli oggetti finali che ha prodotto, che raccolgono una serie di utensili legata all'idea della piastrella con due funzioni in effetti, con una funzione in più. Luca Bruculleri Il progetto si chiama The Skin of Social Ceramic Salve a tutti, buongiorno. Il mio progetto si chiama The Skin of Social Ceramic e indaga l'aspetto del corpo nella ceramica. Nei miei primi esperimenti ho indagato il corpo sotto tutti gli aspetti visivi e soprattutto tattili. Ho fatto quasi un elenco dei nei, dei graffi, di tutti i segni che ci caratterizzano. Poi ho riportato tutto questo all'interno della ceramica perché mi interessava caricare il materiale freddo come la ceramica, di sensazioni tattili, di emozioni tattili, riproducendo varie texture, dalla pelle d'oca ai nei, ai graffi, perché mi interessava l'aspetto narrativo del corpo. Il corpo porta tanti segni che raccontano qualcosa di noi. Volevo riportare questa dimensione narrativa all'interno del progetto. Sono questa serie di ciotole da toccare, da carezzare, anche delle situazioni insolite come i peli, hanno fatto alcune con dei peli, quindi mi interessava anche l'approccio un po' insolito di un oggetto che noi teniamo tra le mani, che ci dà quindi queste sensazioni. Le ciotole perché mi interessava anche raggiungere un livello di calore umano, perché spesso questi oggetti sono abbastanza bianchi, sono distanti a noi, però contengono spesso dei liquidi caldi che invece ci trasmettono a livello tattile delle sensazioni. Questo è il mio progetto. Grazie. Abbiamo della scuola IED di Roma, Mattia Buonavolontà con Grown Tiles. Salve a tutti, sono Mattia Buonavolontà dello IED di Roma, presento il mio progetto per la categoria New Nature, Growing Tiles. Io sono partito ponendomi l'obiettivo di riportare la natura in quegli ambienti urbani domestici che appunto ci privano di essa, partendo da due caratteristiche della ceramica. La prima comunque è un materiale igienico quasi asettico e la seconda che è un materiale che quasi non invecchia o comunque invecchia molto lentamente e volevo ribaltare queste due caratteristiche. Per farlo ho pensato di far crescere delle piante, dei muschi all'interno di una mattonella e per questo motivo ho creato un modulo che ha un lembo, un lembo che quasi accoglie la pianta e in questo modo, questo modulo che è 30x7 può essere abbinato per dare poi altre forme. In più questa tasca crea un effetto tridimensionale, anche visivo, ma la cosa in cui ho voluto comunque sottolineare è l'importanza della pianta che crea sia la texture che il colore, ma soprattutto scandisce il tempo che solitamente non potremmo vedere in una mattonella, quindi con la crescita della pianta noi notiamo quanto passa il tempo su questo materiale. Grazie mille. Paola Sprovieri, Fragments of the World. Buongiorno, sono Paola Sprovieri dallo IED di Roma, il mio progetto nasce dall'unione di due concetti, quello di nuova natura intesa come non natura fatta di piante, fiori, alberi, ma come natura intesa come natura architettonica, quindi esplorare quelli che sono i paesaggi che compongono il nostro pianeta nei vari aspetti che ha, quindi le architetture nel senso più ampio del termine, uniti al concetto base che ho voluto sottolineare che era quello di estrapolare, togliere la visione comune che si ha dei rivestimenti che sono posti spesso nei servizi, quindi nelle cucine, nei bagni e collocarli anche in altri ambienti che noi viviamo quotidianamente, quindi che può essere la stanza da letto piuttosto che un soggiorno o un ufficio, come? Fondendo anche diversi materiali tra loro, quindi non solo ceramica ma anche ceramica e per esempio nel progetto che poi è stato scelto, dove io ho scelto come paesaggio architettonico quello greco, la ceramica unita al tufo che è il materiale che loro utilizzano maggiormente nelle loro abitazioni, purtroppo qui non si può notare però tutte quelle sfere, poi sul prototipo sono un qualcosa di tridimensionale, per cui toccando c'è anche una sensazione tattile forte che unisce, che vuole ricordare le cupole delle chiese ortodosse della Grecia in questo caso, unite alla grana rozza del tufo, perciò era interessante secondo me costituire poi con l'unione di queste texture che creano dei giochi particolari di colori e di visione proprio tridimensionale, delle testate di letti per il letto o anche per incorniciare magari un quadro particolare in altri ambienti che vengono utilizzati di solito. Grazie. Volevo solo aggiungere il lavoro di Paola, purtroppo non c'è il prototipo di là perché durante il trasporto si è rotto e quindi il suo lavoro è stato un lavoro anche di artigianato molto interessante, purtroppo non possiamo vedere, l'abbiamo visto bidimensionale, l'hai cercato di descriverlo, insomma mi sembrava importante dirlo. Grazie. Dunque, quello che poi adesso facciamo magari un giro di riflessioni anche dei docenti, ma comunque credo che la cosa molto interessante è che tutti i risultati che abbiamo visto e anche il lavoro di tutti gli altri studenti sono chiaramente degli esperimenti e ho sentito anche nelle descrizioni delle persone che hanno parlato questa parola in modo ricorrente. Trovo che sia interessante perché sostanzialmente non esiste un esperimento fallito, nel senso che un esperimento comunque prova a verificare uno stato delle cose. Quindi credo che l'abilità degli studenti e dei docenti di Elio Caccavalli e di Stefano Mirti nel proporre questo tema sicuramente sia stata quella di aprire una serie di scenari che hanno portato a una serie di domande, forse più che di conclusioni di design in senso stretto. Credo che appunto parte importante di questo processo sia stato come si è svolto e magari potete raccontarci come si può insegnare in un modo diverso da quello istituzionale e consueto e magari dirci se siete soddisfatti dei risultati che sono stati raggiunti dai vostri studenti. Magari seguiamo l'ordine di presentazione degli studenti, quindi non so se vuoi cominciare Marco. Sì, oppure come volete. Una piccola introduzione del progetto e la dinamica con cui è nato e come si è svolto. Una cosa che a Stefano Mirti a me interessava era quello di creare uno spazio di collaborazione e di discussione dove delle scuole che magari non necessariamente erano nello stesso posto ovviamente o nella stessa città o nello stesso paese, potevano scambiarsi delle idee quotidianamente e quello in effetti è stato il punto di partenza del progetto che poi ha portato Ceramic Future. Quello che interessava a noi è fondamentalmente, ovviamente c'è la parte della ceramica, la parte del progetto che è interessante ed importante ma essendo ovviamente occupandoci di didattica all'interno del mondo del design, una cosa che interessava a noi è quella di poter sviluppare dei modi alternativi di come rapportarsi con gli studenti e come poter insegnare oppure come poter dialogare con loro. La ceramica ovviamente era stato il presupposto per poter fare questo dialogo attraverso in effetti questa piattaforma online che è stata creata dove ci sono stati questi scambi attraverso un periodo di due mesi dove i studenti delle varie scuole e i vari docenti potevano in effetti scambiarsi e commentare e così via. È una cosa bella, penso, gioiosa e magari anche divertente lo spirito un po' gioioso che si è creato dove a volte c'erano dei commenti magari divertenti ma a volte anche dei commenti un po' forti o personali che ovviamente creavano delle reazioni nello studente perché poi magari quando si è solo al lavoro sulla propria scrivania oppure nel solo contesto universitario dove lavori quotidianamente non hai quel tipo di rapporto oppure di input quotidiano quindi c'era questa continua sfida se vogliamo per lo studente di dover in un modo spiegare quello che veniva fatto e per quale motivo determinate scelte venivano fatte così via. Questo in effetti è anche un modo piacevole per pensare come magari la didattica in effetti cambia anche in un contesto quando viene interfacciata con i social media dove tutto è aperto in effetti quindi tutti possono partecipare e possono contribuire a un discorso quindi c'è una collaborazione che viene fatta dall'inizio in effetti e che da effetti rispecchia un po' la natura di come il design si sta cambiando quindi non è il design che ha il design thinking quindi non c'è solo una persona non c'è solo il progettista star non c'è solo la persona che ha delle idee grosse e ambiziosi ma ci sono varie persone che mettono insieme varie idee per poter creare delle cose che hanno una collettività un po' più pluralistica se vogliamo e in più poi c'è ovviamente in questo contesto la ceramica era il presupposto se vogliamo del materiale che è stato utilizzato per fare questi progetti per quanto riguarda i temi immagino che non è che io e Stefano ci siamo in effetti è stata una scelta abbastanza veloce diciamo non è che c'è stato una era come non credo che ci sia stato uno studio particolare per quale facciamo new nature facciamo il corpo umano e così via ci è sembrato ci siamo in effetti abbiamo scelto questi quattro temi perché ci è sembrato che erano quattro temi che in un certo senso possono essere molto facili in effetti da in effetti in cui la collettività si ritrova quindi il corpo la natura e così via quindi non siamo andati alla ricerca di cose abbastanza oscure oppure cose che magari potevano essere non misinterpretano o non capite per il resto per quanto riguarda gli studenti per quanto mi riguarda Glasgow la cosa si è svolta abbastanza organica se vogliamo cioè l'insegnamento da parte di quello in effetti tradizionale dove c'era l'incontro nell'università e così via è stato minimo però nonostante ciò poi c'è stata una parte che è quella legata alla produzione degli oggetti che è venuta in effetti successivamente però la parte iniziale devo dire almeno un mese del progetto è stato legato al discorso e ai dialoghi che sono stati fatti tra gli studenti e le varie scuole e così via quindi i nostri studenti di Glasgow hanno iniziato a conoscere gli studenti delle varie scuole e così via per il resto poi non lo so cosa potrei dire non ci sono neanche state delle decisioni in cui una cosa andava bene e una cosa andava male quello che a noi interessava era in effetti il dialogo in relazione anche al processo progettuale quindi non necessariamente all'ossessione con la materia, l'ossessione con l'oggetto in sé per sé per quello magari alcuni progetti sembrano ancora un po' più fragili di altri oppure magari hanno una concettualità un po' più visibile rispetto ad altri che magari sono più concreti nella parte materiale ma quella è una cosa che a noi piaceva perché ovviamente riflette un po' il dialogo che si è sviluppato attraverso i due mesi quindi il dialogo non era legato fondamentalmente alla materia dell'oggetto ma era più legato alla parte in effetti del progettuale no progettuale ma alla parte in effetti dove le idee venivano messe insieme per cui se ben capisco c'è una parte di sostanzialmente quello che ha fatto la piattaforma online vi ha consentito di discutere molto più a lungo e continuatamente rispetto alla parte produttiva che forse è quella che ha occupato meno tempo o capisco male nel senso questo continuo confronto e riflessioni attraverso i post, attraverso i commenti eccetera ha prolungato in modo interessante tutta la parte di creazione del progetto rispetto proprio alla produzione una cosa un po' in effetti buffa se vogliamo è il fatto che ne Abadir o Glasosculovato o lo IED di Roma e così via sono scuole che si occupano di ceramica quotidianamente quindi infatti quando questo progetto è partito un po' vi nascondo che c'era anche un po' di paura perché i miei studenti non si occupano di ceramica non abbiamo neanche in effetti le risorse dove possiamo in effetti fare della ceramica nell'università c'era una volta un dipartimento di ceramica a Glasosculovato ma è stato chiuso perché non c'era tanta più richiesta e così via anche per decisioni che magari la scuola ha fatto strategiche e così via quindi quello in effetti ci ha fatto un po' avevamo questo piccolo timore se vogliamo però poi quella è la cosa bella perché poi nel momento in cui chiedi delle scuole o chiedi delle persone che non quotidianamente si occupano di ceramica ovviamente poi diventa tutto più interessante perché il discorso non è solo legato alla materia ma è legato anche al modo particolare di lavorare di una determinata scuola che magari è legato al design thinking o magari è legato ai metodi di ricerca legati alla sociologia e così via per farvi un esempio di quello che magari ci occupiamo a Glasgow poi ovviamente ci sono le influenze delle altre scuole e così via quindi c'era un po' questo timore come facciamo poi a tradurre tutte queste cose nella parte in effetti legata alla materia, quella della ceramica e quello poi in modo buffo magari anche con un sospiro di sollievo da parte di Stefano e da parte mia anche che abbiamo visto che in effetti è stato quasi una cosa naturale quella successivamente degli studenti dopo aver passato un periodo di settimana a chiacchierare, a sviluppare idee e così via di essersi in effetti hanno iniziato a lavorare con il materiale e con la ceramica fino al punto che il nostro studio per esempio a Glasgow non è uno studio come dicevo non è uno medico di ceramica, abbiamo completamente rovinato un intero studio perché c'era tantissima polvere e così via che ci hanno in effetti polvere e macchie di robe e così via che ci hanno in effetti quasi quasi magari venivo anche licenziato perché poi alla fine si sono un po' arrabbiati di questo di questo in effetti casino, però quello è anche bello perché crea di nuovamente questo cortocircuito di quella, una cosa interessante nel contesto del design immateriale legato per esempio al design thing e così via, la parte materiale a volte secondo me c'è troppo di uno e magari c'è meno dell'altro o magari troppo di viceversa, quindi secondo me è una cosa interessante questo progetto ci ha dato in effetti un modo nuovamente per capire che se tu interfacci le due cose con un balance che è fatto bene alla fine poi la parte progettuale, quella in effetti legata alla materia o alle cose trimedenzionali ha sempre senso in un contesto in effetti quotidiano anche se magari ti occupi solo di design thinking o di strategies o service design e così via, quindi Grazie Ho risposto alla domanda? Sì 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 direi Sta a me? Lui era Elio Caccavale tra l'altro Io mi attaccherei a quello che ha detto Elio io invece rappresento il Politecnico, buongiorno Lui si chiama Marco Polite Marco? Marco Grazie No è interessante perché quello che mi attacco anche alla domanda di Matteo la piattaforma è stata in qualche modo uno spazio di libertà uno spazio di libertà come dire forzosamente concesso a tutti quindi al di là del bisticcio credo che abbia prodotto la possibilità per ciascuno di noi di produrre in maniera abbastanza libera tra l'altro nel raccogliere l'invito a partecipare a Ceramic Futures al Politecnico abbiamo anche provato a raccogliere studenti da tutte le scuole presenti ora adesso non vi sto a raccontare quante ce ne sono però sono un po' anche soltanto il fatto che ci siano due facoltà di architettura una facoltà del design vari trienni, vari benni insomma la cosa si mischia quindi un risultato interessante mi pare per esempio il poter dire che Giulia che è la prima ragazza che ha parlato fa il quinto anno di design di sistemi di prodotto servizio Chiara fa il secondo anno della triennale di pianificazione, planning quindi in qualche modo la piattaforma ha permesso di raccogliere e far lavorare insieme persone che vengono da un contesto disciplinare completamente diverso credo che questa cosa si sia specchiata per esempio anche nella tipologia di lavori che sono emersi cioè in effetti si tratta di ceramiche si tratta di quattro temi che erano New Nature, Human Body, Food and Work ma che in realtà sono stati interpretati in maniera radicalmente diversa un buon risultato che rispondendo alla prima domanda di Matteo credo di poter dire che i progetti che sono stati portati sono tutti molto diversi l'uno dall'altro cioè le applicazioni ceramiche che sono state realizzate sono radicalmente diverse sicuramente dentro a quello che è stato fatto dal Politecnico ma anche rispetto a quello che è stato fatto da tutti quindi il pezzo interessante è che probabilmente creare un contesto nel quale le persone possano interagire possono dibattere, possono produrre possono lavorare sulla produzione di conoscenze come bene comune poi produce degli esiti molto e molto vari che da un punto di vista formativo mi pare molto ricco per l'esperienza che ciascuno dei ragazzi ha fatto all'interno delle esperienze di Ceramic Futures dall'altro lato mi sembra anche molto ricco invece per quello che si offre al soggetto che ha avuto il coraggio e la voglia di confrontarsi con una cosa di questo tipo perché poi di fatto se siamo qui a parlare di Ceramic Futures è stato perché qualcuno ha detto facciamolo ho un aneddoto abbastanza divertente negli ultimi giorni abbiamo avuto degli scambi di telefonate con Aurora, grazie mille per tutto con Elena, grazie mille per tutto per organizzare questo simpatico incontro e Elena mi ha detto una cosa divertente mi ha detto guarda poi hai presente il lavoro dello studente di Milano che ha fatto la corazza ceramica mi ha detto sì certo pensa che guardandolo insieme con i colleghi a un certo punto abbiamo uno mi ha detto ma tu lo sai che un nostro associato toscano giusto si occupa di balistica cioè fa ceramica per la balistica ossia fa quelle sfere di ceramica che vengono inserite all'interno dei giubbatti antiproiettile quindi la cosa interessante è stato che questa proliferazione di contenuti che ha fatto bene sia a chi è partecipato alla piattaforma in realtà poi come dire tocca e apre delle piste possibili anche per chi ha commissionato questo lavoro che mi sembra molto interessante soprattutto nello scenario globale di oggi che è particolarmente articolato a parte questo è stato tutto molto divertente forse una cosa che volevo aggiungere agli studenti non è stato chiesto di disegnare delle piastrelle oppure delle cose legate a quello che si occupa Cersai oppure la Confindustria quello che è stato dato agli studenti è una specie di metodologia se vogliamo un processo in cui una volta che è stato scelto un tema gli è stato detto in effetti di non preoccuparsi di cosa quel tema poteva dare in relazione all'oggetto finale o al progetto finale ma a passare erano due settimane o tre settimane che hanno fatto esperimenti adesso non ricordo tre settimane se non mi so anche forse anche quattro dove per quattro settimane in effetti hanno solo prodotto esperimenti quindi non legati a cosa in effetti il progetto finale poteva essere che potesse non so che potesse essere una piastrella oppure un giubbotto come lo definisci come l'ha chiamato? un combo un wearable quindi quello lì in effetti è stato molto piacevole perché ha liberato gli studenti un po' dalle in effetti dai limiti in cui magari se gli veniva detto dall'inizio ti devi occupare della piastrella oppure ti devi occupare di un wearable e così via quello è nato successivamente dopo gli esperimenti quindi è stato un processo di scoperta per esempio questo qui è stato di Anna lei era legato al progetto di Anna era se non sbaglio alla New Nature e a lei per un periodo di giorni ha comprato praticamente tanta frutta e tante verdure e si è messa in effetti con l'inchiostro a vedere quale fossero l'imprint delle verdure e della frutta su carta dopo aver fatto questo ha iniziato a farlo sulla plasticina in effetti sul materiale così fino al punto anche addirittura ha preso del chewing gum e ha iniziato dopo averlo in effetti masticato ha iniziato a fare queste forme sulla plasticina plastilina e quindi il risultato finale ovviamente sono nate delle piastrelle che ci è sembrato forse era il media più interessante per poter tradurre questi esperimenti però lei non si è preoccupata dall'inizio quello che farò in effetti saranno delle piastrelle quindi credo che sia stata anche una cosa che è servita tanto agli studenti per liberarsi un po' per avere forse un modo di lavorare un po' più libero forse piuttosto di preoccuparsi cosa sarebbe stato il progetto alla fine infatti la varietà di risultati è fantastica nel senso che poi anche proprio il tema dell'essere bidding assoluto infatti forse la vera risposta a quello che tu dicevi e poi getto il microfono che la piattaforma ha funzionato perché ha prodotto un grado di disinvoltura inedito per i contesti diciamo un po' strutturati che delle scuole di design possono possono rappresentare una frase che ricorre spesso tra le persone che insomma collaborano a questo approccio è che the community is the message e quindi in questo senso il pezzo fondamentale è creare delle possibilità per cui dei gruppi di persone possono lavorare in maniera più disinvolta dopodiché il tema semplicemente offre spunti per andare avanti l'ultimo pezzo che mi sento di aggiungere è stato interessante perché essendo questo come dire a sua volta un esperimento di un modo di provare a fare formazione diverso che coinvolge poi in particolare alcune persone qui sedute più di altre è stato anche rappresentato per esempio dal fatto di essere spurio in se stesso nel senso che la piattaforma a un certo punto quasi non è stata più sufficiente e per esempio i ragazzi del Politecnico per esempio hanno creato un gruppo Facebook parallelo nel quale hanno portato avanti una quantità di interazioni ancora più grandi di quelle che sono state sulla piattaforma quindi in qualche modo è stato un sistema che si è autoalimentato e ha prodotto tutti gli strumenti più necessari per andare avanti insomma Lucia è il tuo turno buongiorno io sono Lucia Giuliano dell'Accademia Barir di Catania io credo che per noi in generale osservando tutto il processo adesso che siamo arrivati alla fine ci sono stati due momenti importanti il momento iniziale che per noi credo è stato fondamentale che è stata la visita a Sassuolo cioè vedere da vicino chi produce la ceramica le aziende e osservare anche l'evoluzione incredibile che la tecnologia ha avuto quindi la ceramica questo materiale millenario che oggi ha delle prestazioni anche incredibili per cui le superfici che riesce a coprire le dimensioni lo spessore una delle cose che più ci ha colpito è stata anche il fatto che la ceramica è un materiale che si stampa che quindi può avere delle finiture sempre molto diverse e questa cosa al nostro tutor che era Cosleagers che oggi non è potuto essere qui e che è un grafico per lui è stata una cosa abbastanza forte è sempre la prima impressione l'impressione anche che ha trasferito agli studenti e lui stesso dice è incredibile vedere che la ceramica is a printed matter cioè è una cosa che si stampa come per chi è abituato per chi è un grafico ed è abituato alla stampa questa cosa è stato un elemento abbastanza impressionante e da qui forse anche per questo poi gli studenti si sono molto concentrati su questa idea di texture per esempio il progetto di Luca che poi ha trasferito la texture la finitura la superficie la sensazione di tattile anche della ceramica all'idea poi della pelle delle imperfezioni anche della pelle eccetera diciamo che alla fine cioè sì siamo partiti dall'industria però poi quello che è stato appunto richiesto ai ragazzi non era quello di generare dei prodotti per l'industria ma di generale dei scenari delle delle del un immaginario nuovo rispetto a questo a questo materiale quello che secondo me poi alla fine è abbastanza interessante di tutto l'esperimento è il fatto sono due cose innanzitutto lo strettissimo legame che si genera tra il fisico e il digitale spesso si ha la sensazione che il mondo digitale tende a smaterializzare in realtà tutto quello che vediamo anche dai progetti e dalla mostra è che il mondo digitale è servito semplicemente a come piattaforma di condivisione di tutto quello che veniva prodotto all'interno dei laboratori delle quattro scuole quindi questo stretto questo strettissima forza questa strettissima tensione tra la produzione materiale e gli esperimenti che hanno fatto i ragazzi con il materiale e la condivisione sul mondo online per noi che siamo a Catania in Sicilia quindi anche geograficamente molto lontani dal resto è stato molto importante perché i nostri studenti in questo modo hanno potuto amplificare anche le relazioni con altri studenti quindi uscire dall'isola uscire dalla scuola e relazionarsi con gli studenti di Glasgow di Roma e di Milano questo è abbastanza importante perché appunto amplifica molto di più l'intensità delle relazioni e quindi anche lo scambio dei contenuti dell'immaginario e del tutto penso che questa alla fine è la cosa veramente più interessante di tutto il processo mi collego a questo intervento io sono Laura Negrini rappresento lo IED di Roma la mia valutazione è legata molto a quella che è l'esperienza che ha visto la formazione anche impegnata su questo campo e quindi quattro scuole molto diverse mi riallaccio anche a quello che poi è stato il commento dei ragazzi quattro scuole diverse quattro finestre aperte quattro possibilità immediate di vedersi da vicino immediate non mediate in realtà quindi di lavorare conoscendo modalità culturali formative completamente diverse è un aspetto estremamente importante questo non perché ti permette solo di scoprire ma perché permette anche di capire e di riflettere sulla modalità formativa sul ruolo del docente sul ruolo della scuola c'è un aspetto desacralizzante è una parola grossa semplificatorio ciò che il tuo tutor la cosa interessante di tutto questo progetto è che vi era una dimensione social ma vi era una dimensione anche invece di rapporto di classe di tutoraggio tradizionale quindi l'esplorazione del progetto veniva guidata da un lato secondo un'autorità è un'autorità che risponda ad un progetto culturale più o meno specifico ad una costruzione mentale e progettuale e ad un'altra dinamica che invece lavora per con una chiamiamola metodologia di contatto immediato e questo lo trovo estremamente interessante perché i fattori di valutazione di giudizio di risposta del progetto che viene messo in campo cambiano lo stesso ambito social ti costringe a confrontarti con la tua idea di progetto con quella della persona titolata a seguirti e con tutto un mondo di risposta di consenso che in questo caso si è messa chiaramente in gioco che è completamente diversa e questo apre di molto il campo del confronto della valutazione di una positività di un livello di interesse o di gradevolezza di un progetto questo credo sia stato l'aspetto interessante per riflettere sul rapporto formazione e social media ma anche in termini progettuali per quello che è riuscito a produrre proprio perché si è lavorato con la ceramica durante le visite aziendali questo materiale ci veniva presentato sempre come un materiale che poteva essere legno però anche essere tipo pietra però anche essere vetro è un materiale libero qualcuno credo in questa sede lo definì un materiale migrante è un materiale che si può mascherare essere tante cose e questa ricerca con i gradi di libertà che ha messo in gioco anche con i gradi di diverse autorità che ha disposto ha permesso a mio avviso questa ricerca di esplorare diverse proprio identità di questo materiale credo che la mostra la presenza degli oggetti quando si riescono a capire ma anche se non si riescono a capire questo valore della materia l'abbiano molto ben espresso io Alberto Iacovoni di Ad Roma mi attacco brevemente a Laura per dire sì che c'è una grande varietà ma anche io come Lucia diceva prima sono rimasto colpito da come su un tema così il futuro e con un dispositivo come social network in realtà abbiamo molta materia molto forse c'è poco futuro cioè c'è un futuro che si ricollega moltissimo al corpo alle tradizioni al passato allora è ovvio che secondo me la parola futuro così come la parola poetry poesia e così come anche il dispositivo erano semplicemente un pretesto per liberare l'esplorazione progettuale da un vincolo stretto di prodotto però non è secondo me questa è una cosa interessante su cui riflettere su cui si potrebbe avviare una discussione lunga cos'è il futuro perché questo futuro forse anche perché la ceramica ha un suo dato materico estremamente importante nonostante un materiale migrante che può assumere qualsiasi forma ma per esempio non ho visto progetti che sono legati per esempio alle nuove tecnologie quindi il futuro sembra in questo momento molto legato a un recupero delle tradizioni a un recupero della corporeità a un recupero anche di al capire in realtà il nostro rapporto anche intimo con questo oggetto con questa materia per esempio nel nostro caso nel caso di Ed Roma dove il tema era estremamente interessante ma anche un po' problematico perché noi siamo molto legati a una dimensione di prodotto in realtà invece questa cosa spiazzava un pochino tutti quanti ci ha spiazzato un po' tutti ma siamo legati a una dimensione di prodotto appunto molto legata al capire come ci si relaziona i nuovi modi anche di relazionarsi cioè quindi a un approccio se volete anche relazionale al prodotto e non è un caso infatti che i nostri progetti che poi abbiamo portato sono progetti che ragionano un po' su questa cosa quindi sono progetti di prodotto ma cercando di capire nuove modalità di utilizzo un'ultima cosa la dimensione social è stata straordinaria è stato fantastico appunto vedere diversi approcci e diversi metodi di confrontarsi io ho solo uno da fare anche su questo dovremmo ragionare su questa dimensione competitiva che è connaturata al web più like prendi su facebook più la foto che hai postato ti dà soddisfazione e anche in questo caso ogni settimana era un ritmo molto stringente da un lato sicuramente è stata una molla una molla ma dall'altro forse anche ha un pochino falsato questa libertà ce l'ha un po' costretta forse troppo in dei canali competitivi e invece probabilmente anche in una dimensione forse più libera forse gli studenti sarebbero stati meno motivati meno pungolati però chissà forse sarebbe successo anche qualcos'altro non lo so grazie Alberto do la parola a Irene Bell se vuole raccontarci qualcosa di come hanno lavorato a Glasgow una cosa che volevo dire che stavo notando mentre scorrevano le immagini che tutti i progetti nonostante ci sia questa forte componente concettuale hanno un grande valore estetico semplicemente molti progetti sono proprio belli per cui credo che questo sia un risultato che forse diamo per scontato ma che invece è molto rilevante e credo sia importante dirlo vorrei parlare dei processi dell'utilizzo della piattaforma che è stato davvero interessante per me perché di solito il processo il modo in cui progettiamo il modo in cui esploriamo le idee prima di raggiungere un risultato è qualcosa di magari personale di nascosto quindi di solito non esponiamo diciamo il processo creativo invece questa piattaforma ci ha dato proprio questa possibilità di scambiare le idee di scambiare i nostri pensieri di quello che veniva sviluppato quindi questo è stato assolutamente fondamentale per noi per la scuola di Glasgow per quanto riguarda diciamo la produzione io non avevo delle aspettative particolari però gli artifatti i prodotti davvero sono diventati molto interessanti alla fine quindi penso che per quanto riguarda dei risultati quindi prodotti diciamo davvero si è trattata di una manipolazione di un pezzo diciamo di fango proprio quindi davvero dei risultati davvero bellissimi molto vari molto variegati davvero una varietà straordinaria quindi questa è stata diciamo la bellezza dei nostri progetti grazie forse passo la parola a Stefano magari apre qualche doppio buongiorno a tutti grazie per essere qui mi sembra che gli altri hanno detto un sacco di cose che sono a grandi linee tutto quello di cui si può dire credo che la mostra il lavoro tutto l'insieme stia a dimostrare che grazie alle nuove tecnologie più sofisticate del presente del futuro eccetera eccetera riusciremo a fare le stesse cose che facevamo prima la mostra cioè la mostra che il ceramic future sta a dimostrare due cose il primo che è tutta la cosa digitale la comunità eccetera eccetera è uno strumento a un certo punto abbiamo ragionato ne parlavamo ancora prima con Lucia ma poi sul catalogo diamo conto di tutti i social media di facebook di questo del web in realtà no perché sarebbe nel mondo tradizionale mica facciamo un catalogo che poi facciamo 30 pagine sulla bio che usiamo per fare i progetti no per una bio è uno strumento il social media è uno strumento poi come diceva un secondo fa Alberto ha delle sue peculiarità e induce una serie di comportamenti dinamiche cose che funzionano meglio cose che funzionano peggio ma il pezzo più interessante è che grazie a queste straordinarie tecnologie pazzesche riusciamo a fare cose che si fanno da oramai 10.000 anni cioè nessuno dei nessuno dei progetti che sono di là viene caricato di un'estetica di un messaggio tecnologico allora poiché siamo no sono cose che si potevano ci sarebbero potute fare però non si sarebbero fatte per processi cognitivi per immaginari per questo e per quello questo secondo me è bello tutta la parte cioè la parte più interessante secondo me sono le parti più questionabili sono le cose che diceva Alberto ma poi per effettivamente di sua natura questi meccanismi chiamano per i like contare i like verificare in maniera ossessiva in maniera voluta le categorie che abbiamo usato sono quando vengono spiegate a persone che lavorano nella scuola sono un po' raccapriccianti chi è il più popolare chi è quello più esiste una correlazione tra quello che riceve più like e quello che è più bravo no non credo però non esiste neanche una correlazione tra quello simpatico e quello più bravo sono gente simpaticissima che non è che faccia fare niente gente antipaticissima bravissima secondo me un progetto come questo apre apre un sacco di domande un sacco di se lo rifacessimo un'altra volta cosa cosa abbiamo imparato cosa faremmo uguale cosa faremmo diverso il progetto è venuto secondo me molto bene per cui si può anche parlare delle cose che non sono tanto venute bene cioè in realtà dal mio punto di vista lo scambio tra le scuole non c'era quello è interessante perché ci sarebbe potuto essere però non c'era tanto magari perché la piattaforma non era perfetta però secondo me ci sono delle dinamiche credo che dal punto di vista dell'intero progetto le parti più affascinanti sono quelle che che non funzionavano per esempio per me che io non avevo a che fare con le scuole era evidente che alcuni studenti hanno inteso questa cosa come fosse l'opportunità della vita nella vita ti viene data una chance di andare al Cersai nel 2013 e su questo progetto venivano investite una quantità di energia passione altri studenti sembrava che fossero stati invitati per sbaglio che gli hanno mandato l'email però lui non fa ceramica non è uno studente che cosa vogliono da me questi era interessante perché sono colleghi sono persone omologhe che se poi uno è a cena insieme sono dicono allora anche lì vedere come mai certe persone vengono stimolate altre no e così via su questo si potrebbero fare un sacco di conversazioni interessanti credo comunque che un pezzo rilevante così come ha detto Lucia sia che il progetto funzionava bene per il cortocircuito la tensione tra l'utilizzo di questi nuovi media sociali e una filiera produttiva quale quella della ceramica perché in effetti la ceramica è pazzescamente fascinosa cioè se avessi se ci fosse Confia Industria Cavatappi che ci invita a fare un progetto sul cavatappo non sono sicurissimo che verrebbe così interessante però poi magari sì non lo so vi dovrebbe vedere non so Elio vuoi dire delle altre cose io volevo solo aggiungere in quella un po' la parte in effetti quello che diceva Stefano degli studenti che potevano essere lì magari anche per sbaglio cioè la parte eclettica se vogliamo del progetto e il nome in effetti dà un po' racconta un po' queste cose che magari a volte hanno funzionato o non hanno funzionato perché poteva essere Ceramic Future ma invece Ceramic Futures e in quel modo in effetti non c'è una una predisposizione a predire a creare delle visioni o una visione di quello che sarà o quello che dovrebbe essere domani mattina ma più che altro la parola Future si è legata un po' all'idea del pensiero cioè a creare alternative di come potersi rapportare con il modo di pensare quindi non è un Future tecnologico ma è un Future molto legato alla parte socio-culturale del progetto perché ovviamente non ci occupiamo di invenzioni non avremmo mai potuto farlo in effetti in due mesi anche perché poi la tipologia delle scuole degli studenti che hanno lavorato su questo progetto non è che sono ingegneri oppure chimici e così via quindi ovviamente questa idea del Future non è veramente legato al futuro se vogliamo ma è legato al modo di come le cose possono essere viste in modo pluralistico quindi non c'è una particolare visione ma ce ne sono tante e in quello poi ovviamente diventa piacevole perché riscontri delle cose che magari funzionano a volte no a volte meno contraddizioni e cose che forse sono più interessanti di quelle che funzionano a volte e nella parte didattica queste cose credo che siano molto giuste perché a volte le cose più interessanti vengono scoperte per sbaglio e forse Ceramice Future potrebbe forse in quel contesto potrebbe essere considerato un progetto sbagliato se vogliamo ma in modo però costruttivo cioè l'idea di che sono nate delle cose un po' interessanti e piacevoli quindi io credo che diciamo sia stata ampiamente esaurita la discussione credo che magari sarebbe interessante avere se ci sono delle domande da parte del pubblico volentieri o da parte degli studenti anche se hanno qualcosa da aggiungere sulla loro esperienza anche rispetto a questa opportunità volentieri Scusami Sì ci sono molti studenti ah ho visto una mano ma forse era un errore infatti si sta nascondendo buongiorno a tutti sono Soprani Enrico e in questa sessione rappresento Marazzi Ceramiche che ha avuto l'opportunità di essere selezionata tra quei produttori ceramici che ha ospitato il team di Ceramic Futures la mia domanda nasce dal fatto che ultimamente la ceramica negli ultimi 5-6 anni è stata un pochettino denigrata dal mondo del design permettetemi di dirlo nel senso che tanti materiali alternativi sono stati sostituiti negli ultimi anni della ceramica quali il legno le resine perché forse più vicini ad un nuovo modo di pensare di concepire il design oggi e la mia domanda è questa esperienza secondo voi quanto può ridare valore alla ceramica in termini di materiale e proprio dell'uso quotidiano che diventa qualcosa che ha un valore aggiunto rispetto a quello che invece oggi sembrano essere materiali molto più fashion molto più più tendenza che danno anche un certo tipo di status alle abitazioni o all'abitare comune quindi quanto per voi la ceramica deve essere riscoperta oggi e tornare ad essere protagonista nel nostro abitare nel nostro costruire di oggi ma la cosa che almeno a me personalmente mi ha colpito di più in quella visita è stato vedere come siete diventati bravi a fare in modo che la ceramica sembrasse qualcos'altro che imitasse un altro mondo appunto quello di cui parlavi tu il legno piuttosto che altre cose invece penso che la cosa interessante di questi laboratori così come anche di alcuni prodotti che vediamo è che c'è una ricerca sul materiale in sé e sulle sue qualità sulle sue potenzialità ecco io penso che forse un modo per la ceramica per affermarsi è quella di non cercare di imitare i materiali alla moda oggi ma piuttosto cercare di capire quali sono le sue potenzialità in quanto materiale straordinario unico con delle sue potenzialità ecco penso che questo esca molto dai vari progetti anche quelli in cui si cerca appunto di far diventare la ceramica qualcosa che deperisce o che cambia col tempo abbiamo visto progetti in cui c'è la natura che l'aggredisce però ecco è proprio questa strada che va intrapresa almeno dal mio punto di vista e questo laboratorio penso che un pochino lo dimostri condivido quello che diceva Lucia che i tre giorni passati qui nel distretto a vedere le aziende sono stati super interessanti ci sono state visite dove abbiamo visto un po' delle eccellenze allora l'azienda la Carlita che fa un millimetraggio bellissimo poi ci sono stati un paio di passaggi che sono stati interessanti perché erano per davvero dei mondi inquietanti non inquietanti però erano dei mondi inaspettati uno va alla mutina che è un'azienda che sostanzialmente non esiste è un sistema sofisticatissimo di terzisti fornitori questo e quello e che inventa un universo che prima non c'era ma forse ancora più interessante da questo punto di vista è stata la visita alla Marazzi c'era un momento in questo stabilimento Campiglie 1 adesso non mi ricordo Casiglie 1 uno perché ce ne sono X dieci campi da calcio e c'era non so dieci operai che pigiano dei bottoni ed era un universo era incredibile cioè tu sei in uno stabilimento che produce un miliardo di miliardi di metri quadri di prodotto finito al giorno che è gestito da pochissime persone a fare una cosa dove l'industria ceramica dopo un percorso di sofisticazione pazzesca sembra legno quello è il mondo contemporaneo è un mondo su cui dobbiamo ragionare su cui tutti quanti noi siamo chiamati e io credo che quanto la ceramica è nella nostra vita quanto la ceramica esce eccetera sta sostanzialmente è una scelta è come essere qui è una scelta di chi la fa la ceramica cioè se poi quella cosa lì è una cosa pregiata se è una cosa invece secondaria se ha più senso è evidente che dal punto di vista progettuale uno dovrebbe dire ma no ma se poi la ceramica inizia a sembrare legno non va tanto bene e sì più o meno tutti quanti conveniamo così come immagino che se io vengo qua oggi a fare questa cosa se vengo con la mia faccia è meglio perché se io mettessi la maschera di un altro però sarebbe interessante se mettessi la maschera di un altro che in questo momento sono io però ho la maschera di sutto de mura sarebbe di sicuro una conferenza molto allora questo fatto che poi la ceramica possa per motivazioni curiose diventare una cosa tutta altra perché c'è la moda non perché c'è un fatto che poi magari tra tre anni noi andiamo a Casiglie 1 e ci sarà una produzione di migliaia di pezzi al minuto che sembrano formaggio perché nel frattempo la moda a me quella sembra abbastanza interessante c'è questa capacità camaleontica che trasforma un non lo so poi forse chiederei anche gli altri in fondo abbiamo ceramica che imita la pelle ceramica che imita il corpo credo sia uscito da qui proprio questa sua virtù magari è una sua capacità di cogliere un mondo sensibile che mondi altri da sé quindi forse è meno interessante quando imita altri materiali suoi amici e si allontana da questa dimensione perché può può portare in sé proprio altre altre vite altre caratteristiche secondo me la cosa figa è che per la maggior parte del tempo si è fatta la ceramica per fare non so i piatti le cose le tazzine e via dicendo e le si decorava dopodiché oggi la ceramica riveste i carri armati è nei satelliti negli acceleratori di particelle nei denti e continua a essere nei piatti e la puoi far assomigliare a tutto quello che vuoi quindi ti è a tutti gli altri materiali è dal 500 probabilmente che il legno non si usa per rivestire cose difensive quindi in questo senso è esattamente un vantaggio come diceva Stefano si può fare tutto quello che vuole e poi per collegarsi all'idea della maschera sarebbe più divertente magari se tutti avessimo qua adesso tutti voi se ci fosse delle maschere di carnevale o che ne so dei vari architetti famosi e quello lì è il contesto narrativo in effetti per rispondere poi alla tua domanda legata a quello che hanno detto un po' loro cosa si può imparare da questa cosa qui o se c'è qualcosa che si può imparare e la parte narrativa in effetti che poi è legata un po' se vogliamo anche alla parte produttiva di quello che succede cioè l'idea di bisogno di poter fare produrre una ceramica che assomigli al legno che abbia delle qualità tactile oppure visive che si richiama al legno quindi qui c'è una parte narrativa che in effetti la finzione in un mondo che magari a volte è un po' anche noioso quindi l'idea di creare un po' di ironia sembra legno ma lo tocchi non è legno lo guardi da lontano il legno poi ti avvicini è ceramica quindi c'è questa cosa narrativa che fondamentalmente aggiunge alla quotidianità che in effetti è Ceramic Futures credo che ha tanta di questa parte narrativa che è legata a vari progetti quindi il progetto in sé per sé non avrebbe ogni progetto in sé per sé non ha nessun significato se c'è una parte socioculturale o che sia narrativa e così via quindi fondamentalmente abbiamo un po' tutti bisogno di storie quindi anche raccontata in modo semplice quella del legno attraverso la ceramica è una mini storia se vogliamo che poi può essere legata a un contesto storico magari visivo e così via quindi ed è quello che credo che ci interessava a noi con questo progetto cioè di raccontare un po' di storie attraverso la ceramica e di nuovamente il Futures questa cosa l'idea il Futures non è un Futures ma sono vari Futures perché sono varie tante storie grazie allora io credo che appunto uno possa scegliere le domande a cui rispondere e qui fuori ci sia una collezione fantastica di domande poste dagli studenti nel corso di queste settimane quindi credo che se non ci sono altri interventi chiuderei e vi ringrazio tutti per essere venuti e per aver partecipato e per i lavori appunto che avete prodotto e seguito in questi mesi e settimane grazie a tutti e buona giornata grazie